Mi è arrivato questo pacco qui da Wambuca, quindi oggi vado ad aprirlo e sono preso bene perché sapete quanto sono preso bene quando mi arrivano i pacchi da Wambuca perché ci sono sempre delle figate dentro. Quindi insieme a questo pacco e insieme a questa maglia improponibile andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Alla prenderei un coltello. Questo è fighissimo. Ok andiamo ad aprirlo da a caso, sia a caso. Ma non ci sono solo questi perché attenzione ci sono cose nuove mai viste da casa Wambuca. Ma quanta roba c'è? Che cacchio è? Questo non l'ho mai visto. E' una cosa, boh, forse è nuovo di Wambuca ma praticamente sono dei mini, dei mini mini, delle mini soldine strane, figo. Comunque la cosa figa e arriva adesso perché, ta-da! Pelli Wambuca, Amber Tone. Questa qui che potete vedere scritto qui. Questa qui se non sbaglio è una pelle molto bella. In parte che è una sabbiatù, non è sabbiata, è una cosa strana, sembra tipo Fiberskin ma non è Fiberskin. E' una pelle che va molto bene sicuramente per il controllo degli overtones. Infatti anche già così si sente che è una pelle fermissima. Poi California Sand, ovviamente è sabbiata, per forza. Sabbiatura tra l'altro, ah! Questa pelle qua è strana perché ha due soldine qui dietro, quindi questa veramente non vedo l'ora di provarla perché sembra molto figa. Ah, mi ha mandato anche una pelle di queste qua che sono quelle Silent. Questa qui la proviamo, magari la proviamo con dei trigger delle cose, capiamo? E poi, ta-da! Questa è la scatola delle pelli Wambuca proprio. Ed è una figata, già solo questa scatola è fighissima, guardate anche dietro. Spiega un po' di cose per quanto riguarda le pelli, infatti ci sono tutte. Vintage Sand, ce l'ho la Vintage Sand. Forse è questa qui dentro la Vintage Sand. Magari poi di questo vi faccio una foto e ve la metto da qualche parte così capite bene come funzionano tutte queste pelli, ma comunque poi farò sicuramente anche un video di queste pelli perché sono preso benissimo e le voglio provare tutte. Eccola qua, quella che mancava, la Vintage Sand. Quindi raga, ho tutte le pelli che Wambuca ha prodotto per dullante, quindi sono la persona più felice del mondo, non vedo l'ora di provarle tutte e tra l'altro sicuramente una di queste che adesso non mi ricordo quale sia, forse è questa, la Humberton. Ve la porterò a vedere anche live. Dato che live io voglio sempre avere un suono panettone, voglio provarla live e la proverò insieme a voi. Voglio capire come funziona, voglio capire se grazie a questa trovo veramente il suono che mi piace. Ovviamente comunque farò un video poi su tutte queste pelli, vi farò vedere bene come funzionano, ve le spiegherò bene eccetera. Per avere più informazioni comunque oltre a scrivermi e chiedermi cose potete andare sul sito Wambuca che vi lascio qui sotto in descrizione. E noi ci vediamo di nuovo a provare queste fantastiche pelli. Ciao!